Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Si consiglia comunque prudenza per i possibili disagi causati dal maltempo che sta interessando gran parte della Toscana. Intanto si ricorda che stanotte sulla 1 a causa di lavori in orario 22.6 rimarrà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud in entrambe le direzioni. Passiamo sulla statale 1 a Aurelia dove si ricorda che sempre a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Rosignano Marittimo che è chiuso in entrata e in uscita in direzione Livorno. Cantieri di Firenze si ricorda che fino al 6 dicembre per il rifacimento di un allaccio fognario è in vigore un divieto di transito in via Reginaldo Giuliani tra via del Sodo e via della Pietraia. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!